Mi chiamo Laura e sono dottoranda e scritta nell'International Doctoral Programming Science, attivato congiuntamente con KU Leven. Dopo la laurea in Fisica presso l'Università Cattolica, ho deciso di continuare i miei studi in questo Ateneo, dove oggi collaboro con il professor Gerosa al progetto di ricerca Partifor. Attualmente sono in Belgio dove sto seguendo una campagna di misura nella foresta di Almuseneie, con il supporto a distanza della restante parte del gruppo di ricerca che si sta invece occupando delle rilevazioni presso il Bosco della Fontana in Lombardia. Anche grazie al 5x1000 è possibile sostenere ricerche che come questa hanno un grande impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.